L'attività di informazione e sensibilizzazione pubblica delle associazioni di Capitanata sull'insedamento delle paleoliche nel mare del Golfo di Manfredonia e del Gasgano continua incessante e dopo l'assemblea pubblica del 19 ottobre il popolo ambientalista è sceso in piazza per salvaguardare e valorizzare le risorse e le potenzialità naturali ed ambientali del territorio ma soprattutto per fornire ai cittadini la consapevolezza dei risvolti economici e sociali dei progetti eolici offshore in questione. Sono state raccolte firme durante un sit-in che si è svolto sabato e domenica in Piazza del Popolo. Una raccolta firme contro l'insediamento dei parchi eolici antistanti le coste del Golfo proposto dal coordinamento delle associazioni provinciali per la tutela del mare del Gasgano per far sì che venga presa in considerazione e rigettata la volontà della comunità, un segno tangibile per l'esercizio di un diritto democratico alla partecipazione popolare, hanno detto gli ambientalisti, visto che tutte le conseguenze di questi progetti ricadranno proprio sulla vita delle comunità locali e soprattutto sul futuro delle nuove generazioni.